La polizia li definisce pericolosi, pericolosi al punto tale di essere accusati dell'assalto armato del 17 ottobre al campo nomadi di Pionca di Vigonza, un commando che con pistole ed un kalashnikov entrò sparando ad altezza Duomo su rulotte ed autovetture. Cinque gli arresti nei confronti di altrettanti giostrai residenti in campi nomadi di Padova, Treviso e Venezia. Due di loro sono già in carcere per una rapina a Pistoia. L'accusa è di tentato omicidio in concorso aggravato dall'utilizzo di armi da fuoco. Sono stati coinvolti tutti i campi dove si trovavano le persone che sono state arrestate, anche delle parti lese perché da quello che ci risulta hanno risposto al fuoco infrangendo un vetro della macchina che è stata utilizzata dagli assalitori, per cui abbiamo controllato anche loro, non abbiamo riscontrato niente ma eravamo quasi certi di questo. Il movente è un regolamento di conti dopo una violenta lite familiare tra un residente nel campo nomadi preso d'assalto e la compagna che assieme al padre intervenuto per difenderla sarebbe rimasta ferita, scatenando l'azione punitiva. Un litigio tra marito e moglie, ferito anche il suo, cioè questo per loro era motivo per provare a ucciderli, insomma, quindi già quello fa capire a che livello stiamo parlando. Ci sia stata anche la figlia di uno di quelli che materialmente l'ha portato e gli ha fatto fare il sopralluogo per vedere, quindi anche là uno che mette a repentaglio la pura vita ha proprio figlia, insomma, le considerazioni nascono in un'unione di noi. Gli arrestati sono di Riese Pio X, di Vedelago e Pianiga, due sono parenti del nomade ucciso in un conflitto a fuoco con una guardia giurata a Barcon di Vedelago.